A quattro giorni dal vittorioso recupero con la capolista Spallanciano, la Virtus Cupello è di nuovo in campo tra le muramiche e visto che di fronte c'è il Pineto, gli uomini di Nicola Marcello provano a fare lo sgambetto ai quotati avversari per avvicinarsi ulteriormente alla zona play-off. Il tecnico di casa deve rinunciare a Ventrella, ma con Filippone che viene schierato dall'inizio. Prima frazione dai due volti, se le due squadre viaggiano infatti nella prima mezz'ora a scartamento ridotto, aumentano il ritmo nell'ultimo quarto d'ora con i due portieri chiamati in causa in più di una occasione. Al ventottesimo, percussione centrale di Filippone che lancia a mena Buoni, ma la terna arbitrale ravvisa una posizione regolare di sputore appostato a centroarea. Alla mezz'ora registriamo il salvataggio di Bottari su Baldin lanciato a rete. Dalla parte opposta non è da meno Ursini che salva la propria porta sul pericoloso diagonale di sputore. I due giocatori entrano più tardi in contatto, ma il signor Falcone non ravvisa gli estremi per indicare il dischetto. Al trentottesimo, la difesa cupellese salve in affanno sull'insidiosa incursione di Baldin. Nell'occasione, Bottari fa buona guardia sull'avventato retropassaggio di Antenucci. Prima del duplice fischio, il portiere cupellese è chiamato in causa in un paio di occasioni. E Baldin il protagonista, dapprima con un debole destro dal limite e al quarantatresimo con un più insidioso tiro dalla distanza che costringe il numero uno avversario ad un difficile intervento in tuffo. Si va al riposo con la gara che sembra promettere gioco e spettacolo dopo la fase iniziale della contesa da dimenticare. La ripresa si apre con i padroni di casa che provano a prendere in mano le redini della gara e si rendono pericolosi in avvio con il colpo di testa di Antinoro che sfrutta il traversone di Barisano ma spedisce il pallone a lato. Nell'arco di dieci minuti, Rossi non riesce a sfruttare due buone occasioni da rete. Al settimo quando non riesce ad intervenire sull'insidioso traversone di Marzocchetti. Al quattordicesimo quando viene anticipato da Adorante sul pericoloso cross al centro di Menabuoni. Al sedicesimo i padroni di casa partono in contropiede ma Di Lello pecca di egoismo e dopo una lunga sgroppata tira sui difensori avversari piuttosto che servire il meglio appostato Rossi. Poco dopo è lo stesso Rossi che tira precipitosamente su Ursini. Al diciottesimo risponde Baldin con un colpo di testa ravvicinato che Bottari blocca in tutta tranquillità. Quattro minuti dopo lo stesso Baldin si inserisce sul retropassaggio di Cicchini e prova la botta al volo. Bottari ancora una volta si dimostra piuttosto reattivo. L'ultima occasione della contesa coincide con il gol che sblocca il risultato. Menabuoni sventaglia al centro verso Rossi, Adorante non ce la fa ad intervenire e il numero sette cupellese ben appostato scaraventa il pallone alle spalle di Ursini. Il Pineto non riuscirà a raddrizzare il risultato, così che al triplice fisco del signor Falcone i padroni di casa possono festeggiare una importantissima vittoria che consente loro di rinverdire le speranze di aggancio alla zona playoff, zona che il Pineto può invece raggiungere con maggiori probabilità nonostante il passo falso odierno. Mister Marcello, con questi due successi nell'arco di appena quattro giorni, la Virtus Coupella è tornata a sperare nell'aggancio alla zona playoff? Chiaramente le due vittorie danno coraggio e morale a tutto l'ambiente. Parlare dell'aggancio alla zona playoff è un pochino azzardato perché ci sono squadre davanti a noi che vanno bene come noi e quindi sarà difficile agganciare appunto la zona playoff. Dal suo arrivo a Coupella è stato facilitato anche dai suoi ex giocatori del San Salvo, lo zoccolo duro, uno di questi tra l'altro oggi ha regalato i tre punti. Sì, sono ragazzi che conosco già da anni, chiaramente fanno la loro parte, ma questi risultati non è da attribuire solo a loro, è tutta la squadra che si sta comportando bene, sta lavorando con tranquillità e il campo ci sta dando ragione almeno per il momento. Il Pineto, vi stanno per oggi, ha destato un'ottima impressione nonostante la sconfitta? Sì, effettivamente questa è una squadra che gioca molto bene a calcio, è allenata bene da un ottimo mister, ha degli elementi validi come Petracca, Baldin, Macera, gente che sono anni che giocano a questi livelli e anche a livelli superiori. Anche qui a Coupella oggi ha dimostrato di avere un buon gioco e chiaramente la quinta posizione che aveva in classifica, ma non so, i risultati delle altre squadre è frutto appunto di questo buon lavoro che stanno facendo. Mi stanno da Barnabè, nonostante la buona prova offerta dalla sua squadra non è arrivato nemmeno un punto, a parziale consolazione arrivano risultati a voi favorivoli dagli altri campi con le dirette rivali che non vanno meglio. Beh sì, noi l'avete visto tutti, abbiamo cercato fino alla fine di vincere la partita, noi siamo così, abbiamo fatto 14 vittorie, 3 pareggi, quindi i risultati non riusciamo a finire una partita con il risultato di parità, perché forse nella nostra mentalità di cercare di vincere ogni partita, forse anche un po' di sfortuna, purtroppo il calcio è questo e dobbiamo cercare di, ormai siamo arrivati alla fine, ci dobbiamo convivere con questa situazione. L'importante è che ci sia stata una buona partita da parte dei miei, anche perché abbiamo avuto 3-4 palle e gol, purtroppo per la bravura anche, purtroppo, il portiere loro ha fatto 2-3 ottimi interventi, però ci può stare nel calcio se non fai gol, a primo sbaglio paghi. Con queste due vittorie consecutive adesso anche la Virtus.cupello rappresenta un avversario diretto per voi? Noi, è da tempo che lo dico, noi stiamo lì, cercheremo fino all'ultima partita di cercare di giocarci fino in fondo questa entrata ai play-off, se ci riusciamo, non è che sia stata una disfatta del nostro campionato, perché abbiamo 45 punti, con qualche pareggio in più potevamo stare anche un po' più in alto, però non ci dobbiamo rimproverare niente, dobbiamo continuare così, l'importante è che ogni domenica giochiamo a calcio, cerchiamo di giocare bene, poi il calcio è fatto di episodi, oggi è un episodio sfavorevole, ci ha condannato, purtroppo. Andiamo avanti.